Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video in questo video vi auguro buona domenica a tutti mangiate, dormite, rilassatevi vedete le partite, divertetevi per chi va al ristorante vi auguro buona fortuna e più tardi vi aspetto con un video su Napoli Torino e più tardi faremo un video importantissimo sono qui con il mio amico Gabriele sono incinto? no, non fare queste cretinate Gabriele è la domenica più bella adesso è mezzogiorno, tra poco andremo a sentire la supplica della Madonna di Pompei e veramente questo è un giorno bellissimo perché vedete il cielo è brutto però una caratteristica importante il divertirsi noi ci siamo presi la Coca Cola ci siamo divertiti ho fatto dei selfie ho fatto tanti selfie e niente ragazzi iscrivetevi al canale e attivate la campanella forza Napoli sempre iscrivetevi ancora al canale e attivate la campanella e un saluto da Gabriele ciao Gabriele 400 Lombardo comunque iscrivetevi al canale e attivate la campanella saluta ancora ciao ciao a tutti ragazzi e iscrivetevi al canale ciao buona domenica ancora a tutti